buona giornata amici di fano tv oggi è giovedì 24 novembre 2022 siamo pronti per la rassegna stampa abbiamo qui i giornali il resto del carlino corriere adriatico vedremo quali sono le notizie intanto cominciamo con iniziare la giornata sotto la protezione di un santo e poi vedremo anche le previsioni del tempo ma il santo di oggi non è un santo unico è in compagnia di una folla sterminata di santi vediamo infatti che oggi si festeggia i santi andrea duc duc lac e 116 compagni andrea lung dac era un vietnamita così come i suoi compagni 116 furono convertiti nel diciattesimo secolo da due gesuiti che sbarcarono nel porto di turan oggi da nang questo è il nome attuale di questa località all'inizio il cristianesimo in questa terra sperduta dell'oriente fu bentolerato dalle autorità locali poi cominciarono a così ad accadere delle cose un po strane per esempio il paese fu devastato da una grande siccità e di questo furono incolpati proprio i cristiani allora cominciarono le persecuzioni persecuzioni poi che dilagarono in tutto il paese e assussero delle dimensioni veramente molto molto drammatiche pensate che furono uccise 130 mila vittime e tra questi appunto andrea dung lag 116 compagni che poi furono cannonizzati e ora sono posti sugli altari questo e per quanto riguarda la chiesa di oggi oggi vediamo poi le previsioni del tempo vediamo che il tempo migliora rispetto alla tempesta di ieri oggi dovrebbe essere bel tempo su tutta la regione con sole splendende per l'intera giornata i venti saranno al mattino moderati e proverranno da ovest al pomeriggio invece da nord nord ovest il mare è poco mosso il vento è calato e le temperature si aggireranno dai 7 ai 14 gradi il sole sta per sorgere alle 7 e 13 e tramonterà alle 16 e 36 però vediamo che i giorni scorsi c'è stata una violenta mareggiata lo vedremo poi anche nella nostra rassegna stampa ed ora diamo un'occhiata come la situazione si è rasserenata con una immagine della spiaggia di numana eccola qui in quello che ci ritrae la webcam abbiamo perso accidenti era una bella immagine ve la descrivo insomma un'immagine di un mare tranquillo che così cammina piano piano verso la spiaggia evolvendo le sue onde e c'era l'orizzonte un bel colore era l'alba che stava per sorgere vabbè comunque ve l'ho descritto in malo modo ma comunque l'immagine avrebbe reso un effetto migliore allora apriamo il giornale a partire dal corriere adriatico e vediamo l'apertura di oggi oggi si parla di una conferenza stampa che si è svolta ieri alla fondazione carifano dove sono stati resi noti i beneficiari di un bando detto bando della povertà sono delle provvidenze che la sogna che la fondazione assegna alle associazioni di volontariato per così sostenere i loro progetti per garantire aiuti a 700 famiglie la caritas si aggiudica 71 mila euro questa è la cifra data alla caritas dalla fondazione in un totale di 120 mila euro insomma la fetta più grossa è stata data alla caritas anche perché il panorama degli aiuti della caritas non si limita soltanto a fano ma comprende tutto l'ambito sociale e quindi le famiglie sono molto numerose vediamo anche quali sono gli altri beneficiari segue la mensa di san paterniano alla quale sono stati destinati 10 mila euro e la mensa in questi ultimi tempi è dovuta aumentare in modo particolare i pasti perché da 80 sono passati a 300 pensate quanto la crisi influisca sulla situazione economica delle famiglie e poi abbiamo la associazione t 41b che si occupa dell'inserimento lavorativo dei giovani disabili e questa associazione ha avuto un importo di 8 mila euro vediamo poi la polis con 7 mila che verranno utilizzati per costruire una rete di centri estivi in cui inserire i bambini più fragili l'associazione utopia è stata finanziata con 5 mila euro a opera la cooperativa sociale sono stati assegnati 4 mila euro la stessa cifra è stata attribuita al centro aiuto alla vita che si occupa del sostegno alla maternità e poi seguono con 3 mila euro ciascuno l'associazione comunità animatori salesiani vicini ai disabili intellettivi che si ritrova soli dopo avere terminato il loro ciclo di studi amici senza frontiere che il portabandiere del progetto selva nera mare blu che lega ancor più con le iniziative in favore dei disabili il gemellaggio tra fanno e rastat la famiglia il consultorio la famiglia diretto da don francesco pierpaoli ha avuto avuto 3 mila euro e poi ancora 2 mila euro sono stati attribuiti all'associazione papa giovanni ventitresimo questa un punto la lista dei beneficiari di questa di questa di questo bando un bando interessante perché faleva un po sul crowdfunding ovvero su quelle sistema di raccolta fondi che invita le associazioni non solo a così a stare fermi presentare i progetti e ricevere i contributi ma anche a cercarli quindi tutta una catena che si mette in moto e produce ancora maggiori risultati ed ora diamo un'occhiata a quello che ha procurato il maltempo nei giorni scorsi mareggiata disastro in poche ore senza scogliere qui non ci si salva ebbene quasi tutte le spiagge hanno subito danni dalla furia del mare che ha eroso e portato via una quantità notevole di sabbia da Fosso sei ore a sassonia fino all'arzilla stabilimenti balneari devastati i titolari sono in ginocchio e bene questa parte dei litorali ancora non è protetta in maniera efficace dalle scogliere e quindi i disastri si notano subito e si notano anche i disastri che sono stati che si sono verificati in quella zona di sassonia che ancora rimane scoperta dalle scogliere ovvero i bagni Carlo i bagni Carlo davanti hanno un vuoto in cui il mare entra ed erode veramente tutte le opere di difesa che sono state fatte addirittura addirittura si giunge fin quasi alla fine della zona dove vengono sistemati gli ombrelloni e quindi ci sono diversi diversi danni la curva dello stadio Mancini porta il nome di Bronco via libera alla proposta dei tifosi per ricordare Federico Santini porterà il nome dunque di questo appassionato supporter dei Granata universalmente conosciuto come Bronco la curva dello stadio Mancini è stata vallata infatti dall'ufficio toponomastica del comune di Fano l'iniziativa lanciata attraverso una petizione questa iniziativa poi è stata presentata alla commissione toponomastica dal consigliere comunale Francesco Panaroni comunque una petizione che è stata sostenuta da tantissime firme dei tifosi Granata in ricordo di un personaggio che è stato ben voluto da tutti e la cui fine purtroppo ha suscitato un enorme rammarico nei confronti non solo delle tifoserie ma in confronti anche di molti molti cittadini giriamo la pagina e siamo a Fossombrone nella pagina della Valmetauro del Corriere Adriatico e qui si parla di cronaca si parla di cronaca perché a Fossombrone sta seminando veramente ansia e problemi una baby gang una baby gang che rapina i propri coetani in quattro o cinque tutti giovanissimi con cappuccio e a volto coperto quindi ben intenzionati hanno circondato mio figlio racconta una mamma e lo hanno minacciato con la punta di un bastone alla gola addirittura e si sono fatti consegnare soldi e telefonino e poi si sono dileguati per riportare lo smartphone che avrebbe retracciato la loro fuga è il racconto angosciato di una mamma che per ovvi motivi resta anonima ma poi c'è anche un altro racconto di un altro genitore il quale dice che dopo le minacce che sono state compiute nei confronti del mio figlio gli hanno rubato il booster e poi lo hanno ritrovato comunque è stato sempre un atto piuttosto criminoso che suscita allarme e a prensione e quindi gli inquirenti si sono messi sulle tracce di questa baby gang le indagini dei carabinieri e ancora non hanno ottenuto risultati ma si pensa che non debbano così mancare di molto il risultato delle indagini perché qualcosa è stato già individuato ed ora parliamo della fano grosseto della fano grosseto questa eterna incompiuta ebbene le ultime dichiarazioni che sono giunte dal governo non sono affatto confortabili perché poi questa fano grosseto non è stata posta tra le priorità delle infrastrutture che vengono realizzate però insomma ora si cerca di mettere una pezza a quanto dichiarato vediamo il titolo un equivoco sarebbero le parole di salvini per il ministro mancano soldi e progetti ecco perché non è stato posta sulle priorità la fano grosseto lo dice l'assessore regionale alle infrastrutture che si è battuto per la realizzazione di questa arteria francesco baldelli durante un incontro con amerigo varotti della conf commercio anche l'associazione ovviamente è molto interessata alla realizzazione di questa strada che cosa occorre occorre che si sblocchi innanzitutto la partita della della galleria della guinza entro il 31 dicembre ci dovrebbe essere la consegna dei progetti alternativi alla attualmente alla galleria esistente che non viene considerata utile e adatta al passaggio del traffico l'anas ha affidato il compito ai progettisti sulla richiesta della giunta della giunta regionale e da lì si valuterà quale progetto scegliere per poi sottoporlo alla approvazione delle commissioni gallerie del governo insomma ancora l'iter burocratico è in itinere e chissà quanto ci vorrà perché venga completato ma non solo l'iter burocratico perché poi mancano anche le risorse e quindi una volta terminato tutti i progetti e tutti i passaggi tra un livello all'altro occorrerà trovare le risorse quindi chissà quanto avremo l'affano grosseto a senigallia a senigallia ruspe al lavoro dopo la mareggiata anche qui la costa ha subito dei gravi danni e i stabilimenti balneari sono stati appunto puniti dalla guardate guardate come è alto il livello della sabbia portato via dalle onde via rami e tronchi detriti sono quelli portati dal fiume con l'alluvione e rigettati nell'area dello scalo dune dunque da rinforzare pulizie in porto in questo articolo appunto si descrivono i lavori che si pensa di fare per riuscire a riparare i danni che si sono verificati ed ora apriamo il giornale sulla pagina di pesaro dove vediamo che il comune ha aumentato le risorse a disposizione per sostenere le famiglie più fragili con degli sconti sulla tari sulla tassa dei rifiuti tari mezzo milione di fondi sosterremo 2350 famiglie hanno detto gli amministratori pesaresi gli stanziamenti dunque sono più che raddoppiati il comune ampia operazione per aiutare chi è in difficoltà ebbene vediamo quali sono i particolari di questa manovra il contributo tari passa da 230 mila euro a 470 mila questo è la montare delle risorse che il comune mette a disposizione ebbene di questi contributi ne beneficeranno 2350 famiglie a cui l'amministrazione comunale pagherà i tre quarti della bolletta insomma un bel taglio tre i livelli di aiuto previsti a secondo poi le fasce di reddito 140 euro 230 e 310 euro quelli più fragili in totale hanno presentato domanda 2600 utenti 90 per cento dei respinti è già stato informato sono 250 in tutto e poi anche il comune ha bisogno di sostegno perché il comune ha subito ugualmente dei danni come tutte le famiglie per l'aumento del costo dell'energia ebbene il ammanco ammonta a 3 milioni ed ora qui nobili afferma la manovra descrive la manovra che viene portata all'approvazione del consiglio comunale la seduta è prevista per il 28 novembre salvaguardando i servizi sociali la scuola e la cultura il caro bollette dunque colpisce anche il comune di pesaro ma la giunta tampona con una manovra da oltre 3 milioni che approvata martedì in giunta arriverà appunto in consiglio comunale qua viene ovviamente descritta le nutrie le nutrie sono animali simpatici per alcuni invece un po da allontanare per altri troppe nutrie ebbene le nutrie sono molto prolifiche e quando conquistano un territorio veramente lo conquistano anche con il numero dei loro esemplari che un po procurano dei danni perché questi esemplari hanno bisogno di alimentazione e così ne soffre anche l'agricoltura le nutri mangiano veramente di tutto nutrie troppe e quindi il comune di pesaro corre ai ripari e così e dissemina le trappole e quindi largo ai trapper gabbie per catturare le colonie un piano di contenimento per la focce del foglia il miralfiore e case bruciate e questi sono un po i luoghi dove verranno sistemate queste trappole però l'articolo poi non dice che fine faranno gli animali che verranno catturati se verranno così eliminati oppure verranno liberati da un'altra parte se vengono liberati da un'altra parte sarà un altro territorio da colonizzare per questi animaletti allora veniamo alla cronaca non si rassegna dall'addio e c'è una donna che perseguita il suo ex ha inviato 7500 messaggi si tratta di una stalker così viene definita è una 53 n che ha proferito minacce anche alla madre del suo ex la relazione è il classico la relazione è finita lei minaccia l'ex e addirittura anche la madre telefonate messaggi messaggi ad ogni ora del giorno e della notte deve rispondere dell'accusa di atti persecutori si tratta di una 53 n che non accettava la fine della storia con 49 n pesarese così per spasmodica volontà di possesso ha iniziato a inviare messaggi all'ex a tutte le ore del giorno e della notte il numero è molto considerevole 7500 messaggi ebbene deve rispondere dell'accusa di atti persecutori anche perché la famiglia ha cambiato le attitudini di vita guardando sempre più con circospezione insomma quello che accade attorno a lei si è presentata in tribunale e poi l'udienza è stata aggiornata ancora se ne avrà un'altra a data da destinarsi vediamo la pagina di urbino sul corriere adriatico si parla di palazzo albani palazzo nuovo e casa cantoniera dal sindaco due proposte inaccettabili ebbene il sindaco gambini avrebbe una proposta pronta per i locali alternativi a quelli di via oddi e dove ha sede e capellini e ampi ma per i presidenti gli spazi sono insufficienti per ospitare tutto il materiale e quindi non vengono accettate queste soluzioni alternative presentate dal sindaco gambini vediamo ora il resto del carlino sulla pagina sulla pagina di fano eccola qua l'apertura è dedicata ad una notizia importante quella dei parcheggi in viale dante alighieri viale dante alighieri è un lungo viale nei pressi del litorale fanese nei pressi di sassonia che è parallelo a viale adriatico è importante perché mentre viale adriatico ha dei parcheggi a pagamento ancora viale dante alighieri ha dei parcheggi liberi però il numero dei posti macchina è importante per contenere tutte le necessità sia dei residenti sia di coloro che poi frequentano il litorale vediamo il titolo tir residenti convivenza possibile ma occorre tagliare 30 posti auto sì saranno 30 i posti auto che verranno sacrificati ma sembra che il progetto abbia ottenuto la soddisfazione dei residenti finalmente trovata una soluzione per il viale dante lighieri i parcheggi resteranno solo sul lato mare al posto di quelli sul lato monte sarà realizzata una pista ciclabile verso le case un camminamento pedonale quindi avremo camminamento pedonale pista ciclabile parcheggi e la careggiata dove transiteranno le auto sul lato mare i parcheggi rimarranno a spina di pesce mentre spariranno appunto una trentina sul lato monte a loro proposto sarà realizzata una pista ciclabile in direzione ancona e a fianco più verso le case un camminamento pedonale oggi la proposta dovrebbe essere approvata in giunta e se non ci saranno obiezioni l'intervento potrebbe essere realizzato addirittura nel mese di dicembre non è un intervento costoso costerà circa 10 mila euro non ci saranno opere strutturali da realizzare e la pista ciclabile sarà disegnata soltanto con una riga orizzontale appunto per sul sull'asfalto quindi non ci saranno grandi lavori da attuare vedremo poi se questo se questo progetto funzionerà anche il resto del carlino descrive quello che si è detto nella conferenza stampa convocata dalla fondazione carifano nella giornata di ieri in merito all'esito del bando sulla povertà lotta alla povertà sotto ogni forma a 11 associazioni vanno 120 mila euro e poi vediamo che questa sera ci sarà un interessante incontro al pino bar convocato dai partiti di minoranza e ci sarà anche il sindacato del siulpe e degli agenti di polizia si parlerà di ordine pubblico dopo quanto accaduto appunto vi ricordate la rissa di via nolfi nei pressi del bar dello sport e vediamo anche a fondo pagina l'articolo che riguarda la stalker del una 53enne di rimini appunto che perseguitava il suo ex con minacce di morte pedinamenti e messaggi a tutte le ore del giorno parliamo qui di politica parliamo qui di politica perché i partiti cominciano a guardare alle elezioni del 2014 e si cominciano ad intracciare relazioni così esprimere abboccamenti valutare un po la situazione né con la destra ma nemmeno con il partito democratico ora il 5 stelle guardano tutto a sinistra prove di alleanza verso le amministrative del 2023 ruggeri democratici troppo frantumati mi sembra che non ci siano le amministrative nel 2023 ma non vorrei sbagliarmi insomma mi sembra che siano nell'anno successivo comunque per il 2024 infatti per il 2024 serve un progetto di rottura che può realizzare solo chi non ha mai governato la città non è arroganza dice il capogruppo comunale del movimento 5 stelle tommaso mazzanti che di fatto apre la campagna elettorale ma non sembra per nulla scontato che tra i futuri alleati del movimento 5 stelle ci sia anche il partito democratico e qui un po si va alla spicciolata si va alla spicciolata al momento ma poi sotto sotto si cercano così alleanzi e come dicevo prima abboccamenti gli abboccamenti secondo la capogruppo in consiglio regionale marta ruggeri non mancano da ambo le parti quindi anche da lega fratelli d'italia e perfino da papabili candidati sindaci chi sono questi papabili candidati sindaci che la curiosità magari più diffusa che si possa alimentare qui ancora non viene non viene detto ed ora passiamo a colli al metauro ponte chiuso e dei lavori non si sa nulla è la denuncia di curina a tavernelle un accesso è sbarrato da 18 mesi i pedoni sono costretti a camminare tra le auto il progetto ha presentato in ritardo non ha ricevuto i fondi regionali anche un secondo bando non è andato a buon fine e quindi si sollecita la realizzazione la riapertura di questo passaggio che è molto importante per la zona in cui si trova e poi vediamo urbino sito unesco in vista il nuovo piano di gestione il ministero ha fatto il punto sulla conservazione della nuova stesura sarà predisposta anche una guida pratica sul da farsi ebbene l'amministrazione comunale di urbino accelera la stesura dell'aggiornamento del piano di gestione del sito unesco e incontra urbino maria pianigiani che è una delle cinque referenti del ministero della cultura per la convenzione sulla sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale di cui urbino fa parte con grande rilevanza e grande valore sanitari in rivolta per i rinnovi contrattuali i ripendenti precari temono di non vedere confermata l'assunzione questo è un tema che i giornali ripropongono da alcuni giorni i precari sono ormai giunti alla fine in scadenza del loro contratto e temono appunto per loro posto di lavoro chi sarà in servizio dovrà sobbarcarsi orari insostenibili afferma appunto il giornale vediamo anche una notizia che riguarda Pesaro sul resto del Carlino siamo ormai in scadenza eccola qua è la notizia che riguarda la Tari sul resto del Carlino il bonus Tari va a 2350 famiglie trovati 240 mila euro in più e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa grazie per l'ascolto io vi do appuntamento come sempre a domani alle ore 7 e per le notizie del giorno alle ore 20 30 di questa sera con occhio la notizia il giornale di Fano tv grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti